buonasera la puntata di oggi è dedicata a fare il punto sulla situazione in etiopia vi ricordate abbiamo già trattato in alcune puntate dedicate la situazione appunto tra della guerra scoppiata tra la regione del tigre e il resto dello stato etiope il governo o meglio a questo punto regime di ahmed abiali premio nobel per la pace ha assunto le caratteristiche del dello stato oppressore perché un anno fa più o meno di questi giorni mi sembra proprio aveva dato via il via a una avventura militare occupando entrando con le forze armate nella regione del tigre la motivazione di questa azione di forza era stava nel fatto che la regione ottemperando agli obblighi previsti dalla costituzione aveva indetto le elezioni entro i termini stabiliti dalla costituzione e aveva svolto le elezioni nel paese vincendo tra l'altro il tpnl partito della liberazione del tigre aveva vinto le elezioni con un ottimo risultato che non dava spazio alle forze del governo diciamo circa il 90 per cento vabbè abbiali ha rifiutato di riconoscere le elezioni perché lui aveva ritardato il voto in attesa di qualche cosa di più favorevole a lui evidentemente perché non essendoci un rischio epidemico differente da quello che c'è oggi lui invece aveva tenuto le elezioni mi sembra questa primavera all'inizio dell'estate fatto sta che lui il 4 di ottobre ha giurato ed è entrato in carica con il nuovo la nuova incarica quando le elezioni avrebbero dovuto tenersi più di un anno prima naturalmente nessuno gli ha fatto presente a suo tempo che avesse violato la costituzione a livello internazionale intendo così come anche non ci sono state sufficienti azioni di contrasto alla sua decisione di invadere il paese cioè il tigre per quanto riguarda le operazioni militari di un anno fa si conclusero con una rapida apparente vittoria dell'esercito etio perché occupò addirittura la capitale maclè del tigre e il presidente proclamò la totale vittoria da parte delle sue forze armate poco poco tempo dopo con l'arrivo del 2021 la situazione è cambiata ed è cambiata radicalmente le forze tigrine si sono organizzate dalla montagna dove si erano rifugiate hanno liberato le loro città compresa la capitale e fatto migliaia e migliaia di prigionieri dell'esercito etiope tenete presente che si parla di 15 20 mila soldati catturati ed erano forse anzi probabilmente le migliori unità che di cui disponeva l'esercito etiope l'etiopia è un paese di 100 milioni di abitanti circa le forze armate nelle unità efficienti sono in ristretto numero oltretutto la casta militare per eccellenza del paese era quella tigrina da qui si capisce anche un po le difficoltà in cui si trovano ora l'avanzata tigrina se vi ricordate arrivò a liberare quasi tutta la il tigre restano alcune regioni a ovest ancora occupate dalle truppe di amara e altre e un a nord mi sembra qualche cosa ancora occupato dall'esercito eritreo che era arrivato in soccorso dell'amico a biali ecco col quale avevano firmato l'accordo di pace poi è stato premiato solo a biali non si capisce perché comunque sia sono i giochi internazionali faceva comodo dare il premio a qualcuno pur di non darlo a trump a che punto sono adesso allora nelle ultime offensive il tigre era arrivato a lambire addirittura un lago nella fattispecie arrivò a occupare delle città vicino al lago tana l'esercito di liberazione del tigre si era poi stabilizzato intorno a mersa andiamo un attimo a vedere nelle mappe quali sono queste zone siamo adesso sulle mappe vediamo qui come questo è il confine meridionale della regione del tigre questa tratteggiata le forze tigrine si erano assestati intorno a mersa e poi si erano allargate un po verso ovest in direzione del lago tana ma dal quale poi si erano ritirate in seguito e anche avevano fatto delle puntate su semera grazie agli aiuti anche degli ola se non sbaglio si chiamano un gruppo locale che si è unito al alle forze tigrine per rivendicare l'autonomia della propria regione le stesse forze oromo che poi sarebbe la stessa etnia del presidente abiali si sono unite alla lotta nella loro regione che è questa è l'etnia assolutamente più numerosa dell'etiopia e distrave tra l'altro una grossa fetta di truppe che devono occuparsi anche della loro regione anziché opporsi totalmente alle forze tigrine perché si erano allargate nella zona di semera allora qui occorre fare una premessa questa zona questa questa strada che vedete qua è l'autostrada a1 e affiancata tra l'altro anche dalla ferrovia collega a disabeba a gibuti gibuti funziona come porto principale per tutti i commerci che vanno e arrivano in etiopia capite bene che l'interruzione di quella strada comporta inevitabilmente un danno economico irreparabile per tutta l'etiopia il giorno 9 inizia l'offensiva delle forze etiopi il 4 quindi abbiamo avuto l'insediamento della nuovo mandato presidenziale di abiali e dopo la concentrazione di truppe durate una decina di giorni ecco che le forze etiopi decidono di avanzare tentare l'offensiva per fermare le truppe e ricacciare indietro le truppe tigrine non vi riescono perché si infrangono contro il grosso delle forze avanzate perché inspiegabilmente i vertici militari etiopi optano per un attacco frontale vedendo in alcune immagini il terreno com'è intorno a questo settore possiamo però vedere che vi sono montagne su un fianco e sull'altro probabilmente non vi sono molte strade c'è probabilmente un fattore geografico che ha giocato in favore dei tigrini perché anche la loro avanzata viene grosso modo lungo questa dorsale e non attraverso altri settori comunque sia la strategia militare spinge e consiglia ad attaccare i fianchi di un saliente cioè se il nemico scende in linea retta prolungando la catena delle rifornimenti quindi la catena logistica è lì che va concentrato l'offensiva delle tue forze e cioè spezzare la catena dei rifornimenti in modo che il grosso delle forze avanzate tigrine o debba essere costretto ad arretrare per recuperare il contatto con la base quindi a ripristinare la catena dei rifornimenti distraendosi comunque rispondendo a una tua iniziativa vuol dire questo avere in mano l'iniziativa che è sempre la chiave per avere la vittoria in una guerra invece che cosa fanno loro attaccano frontalmente quindi lasciando intatta la catena dei rifornimenti e affidando questo questo compito solo agli attacchi aerei sia con i caccia etiopi sia con i droni quali droni allora l'esercito etiope sta utilizzando al momento stando alle notizie che abbiamo dei wing long di produzione cinese i wing long non sono utilizzati da molti paesi li abbiamo visti usare in libia assieme alle truppe che sostengono il generale aftar dalle forze degli emirati arabi che li hanno acquistati dalla cina è possibile ipotizzare quindi che ci sia lo zampino degli emirati arabi a fianco del presidente abiali è difficile a dirsi al momento però è anche possibile il presidente abiali era andato anche in turchia per richiedere i bay aktar ma al momento non abbiamo notizia che questi vengano usati è possibile invece che qualche altra forza del golfo abbia risposto ai suoi appelli in cerca di alleati e anche fondi per per pagarla controffensiva e quindi lui al momento si presenta con i wing long gli effetti di questi bombardamenti se ci sono stati non hanno fatto la differenza sul campo di battaglia tant'è che il 30 con un'altra spinta circa una settimana passa tra una spinta offensiva e l'altra le forze tigrine raggiungono dessie dessie e battima se non sbaglio rappresentano una chiave di volta per le forze tigrine perché intercettano due importanti arterie stradali la prima l'incrocio tra la a2 e la b21 e l'altra l'incrocio tra la a2 che arriva fino ad addis abeba e la b11 che porta il collegamento verso di nuovo il porto di djibuti quindi si va riducendo la possibilità di scambio commerciale dell'etiopia con il suo porto che è quello in djibuti le merci devono fare ora un giro molto più lungo cioè scendere lungo la b31 e la a3 fino ad addis abeba per poi girare lungo la a1 e raggiungere poi djibuti il problema non è tanto questo quanto il fatto che le forze che erano schierate qua rappresentavano quanto era riuscito a raccogliere l'esercito etiope per frapporsi tra la capitale e l'avanzata tigrina cosa c'è ora mi chiedo tra di loro se non la distanza questo è molto importante perché se le forze che erano state posizionate qui erano tutto ciò che era riuscito a raccogliere in questi mesi il presidente abiali a difesa della capitale cosa resta cosa c'è ancora che le truppe tigrine non hanno travolto tenete presente che se tra loro e le forze tigrine non c'è più molto e allora è solo questione di tempo di trovare le carburante per dire piuttosto che i vettovagliamenti per per dare il cibo i pasti ai suoi soldati e raggiungono poi in breve tempo addisabeba perché questo ormai è l'obiettivo che si pongono e l'hanno già fatto una volta in passato il presidente abiali appeso a a un sottile crine di cavallo come si suol dire la spada di damocle della fuga all'estero ormai non è tanto lontana per il presidente abiali perché non c'è molto non c'è molto sono praticamente a metà strada tra il tigre e la capitale del paese andiamo a vedere in alcuni filmati che tipo di truppe avesse raccolto il presidente abiali per fronteggiare l'esercito tigrino deep in the deserts that straddle ethiopia and kenya hundreds of fighters are preparing for a hidden war these are men and women of the oromo liberation army the ola says it's people the oromo allora questi sono i militari dell'oromo liberation army che è quello che vi dicevo che si è schierato insieme ai tigrini contro l'esercito etiope tenete presente che lo stesso abiali fa parte di questa etnia guardateli bene e poi vediamo chi sono invece quelli che fanno parte dell'esercito etiope ha venuto oppressed for more than a century this is an old armed struggle but many of the people here that you can see were not born when the oromo liberation army was first formed in the 1970s today as the ethiopia faces many conflicts and challenges this group sees new opportunities we cannot independently verify the ola's claims but if true there would have been unthinkable just 12 months ago ethiopia's new government is under immense pressure in the north tigrayan rebels are fighting government forces and their allies in recent months this war has spread to the neighboring regions while elsewhere ethnic conflicts are simmering and in oromia violent protests have rocked part of the region and the ola has waged its guerrilla war for the right to choose independence the government's response has been tough in this video shared on social media two young men are marched into the bush allegedly by the police human rights groups have accused authorities of indiscriminate killings and mass arrests the government told the bbc it does not target civilians in neighboring kenya we find families who fled their homes even here in kenya you can still see the consequences of the conflict that's happening just across the border over there in ethiopia these families came here because they say government forces threatened them they've been here for about four months now and they say they're struggling to find basic things like food water and crucially medicine as well we've just been told that a seven-year-old died here a week ago because the family couldn't find help we join the ola in the desert where their young recruits are learning to live and fight a lot of young people here are disaffected with the government and with so many politicians and opposition leaders currently in detention a lot of them are seeing this as the solution the oromo liberation army wants to ethnically cleanse the non-oromo especially amara from the oromia region depose prime minister abhi ahmed and establish an oromia state under their their leadership the rebels have denied killing civilians and say they would welcome independent investigations as the day draws to a close the sounds of whistles and gunfire are replaced with traditional songs about oromia ethiopia is an increasingly fractured nation all groups involved in its countless conflicts stand accused of gross human rights violations or deny they're the ones to blame but what's certain is that it's ordinary people who are suffering and that seems unlikely to end anytime soon nel video precedente abbiamo visto appunto come le forze dell'ola di cui avevo parlato prima richiedono indipendenza dal governo centrale etiope stiamo assistendo a quella che è forse la fine del dello stato etiope nato dall'impero al termine di questo fatto stanno riemergendo di questo periodo storico che ha visto questo grande paese potrebbe crescere anche nel numero dei suoi abitanti stiamo arrivando al recupero di quelle che sono le le tensioni etniche tra i gruppi vari i tigrini da un lato gli amara dall'altro gli oromo ognuno di loro reclama di l'autogoverno e questo porterà inevitabilmente al disfaccimento del paese spero non a delle guerre prolungate nel tempo ma che si concludano semplicemente con una ricreazione di stati su base etnica che però purtroppo non non garantiranno loro il benessere eventualmente le promesse che i capi come al solito stanno elargendo ai soldati ai e al popolo che li segue e come al solito si ridurrà in in una disillusione da parte loro comunque vediamo adesso invece come vanno le cose dal lato dell'esercito etiope e le forze che stanno reclutando per le offensive qui siamo all'inizio di ottobre quando stavano recuperando le truppe per ammassarle e contrastare in quella grande offensiva le forze tigrine vediamo chi hanno addestrato questi sono gli amara vedete anche solo nei costumi di abbigliamento nella capigliatura quanta differenza ci sia con il loro uomo per fortuna hanno dei simulacri di fucili se no si sarebbero già ammazzati l'uno con l'altro perché si puntano il fucile alla schiena non so voi ma io vedo anche dei ragazzi molto giovani forse troppo giovani ma che sono dicono che è una morte di vivimento la una parte per l'esercito l'esercito e le forze l'esercito 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Cioè a 16 anni non lo so mica A me sembra più piccola di 16 anni E l'hanno arruolata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ecco le solite accuse che si rivolgono l'uno con l'altro Questi fanno il genocidio contro noi Gli altri fanno il genocidio contro gli altri Un ex-member dell'Itopia speciale Fanno rappresenta il suo corso gratuito E molti sono disposti a sacrificare le loro vita Per l'amara costa Il nostro corso gratuito è Non ci sono stati di rinforzare. 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 Tutti i sideri sono accusati di rinforzare in questo conflitto di rinforzare, come i massi di uccidioni, l'utilizzo di starvazione e il rinforzo come arma. Nel ultimo incidente, almeno 10 persone sono stati morti oggi in una guerra di governo in la capitala Tigranian, Magallè. Questo è l'attacco aereo su Magallè. E' qui che si concentrano gli attacchi sia con i caccia che con i droni da parte del regime di Addis Abeba. ...dietro di TPLF, in Dessay, ieri. Ora c'è una battaglia su molti fronte. Questa è Dessay. C'è la città che è stata conquistata proprio l'altro ieri. C'è il 31 e poi la controffensiva l'aveva in parte ripresa, ma ieri hanno confermato la presa di Dessay. E' proprio questa città qua. vedete, ne parlavano anche qui del fatto che sia una città chiave per il traffico delle merce a Djibouti. La battaglia qui potrebbe essere decisiva. In una comunità di Amhara, qui e in fuori del paese, ci sono chiamati regolari per le persone per supportare Fano, con volontari e l'argento. Mekennon è stato in gli U.S. per 20 anni. C'è stato campagna sui sociali per creare fondamenti e ricruire combattatori per Fano. Ma ora, ha lasciato la sua moglie e 4 bambini per arrivare qui per combattere. Mi figli, sono circa 19 anni. Io sempre dicono, che andrò, se l'è tempo. Io sono un padre, e non posso immaginare lasciare i miei figli e direi, potrei non tornare. Sì, non le dico. Allora, da queste immagini possiamo anche iniziare a capire, avete visto intorno, le montagne sono alte e impervie, perché gli attacchi stanno avvenendo lungo l'asse della strada, perché semplicemente è il passaggio obbligato per le forze che devono scontrarsi. da un lato e dall'altro ci sono le catene montuose, e pertanto non c'è possibilità di muovere truppe laddove non ci sono eventualmente delle strade adeguate, e pertanto sono gioco forza, devono contrastarsi all'interno di questa vallata dove corre la strada principale, e in questo caso i tigrini hanno il vantaggio di avere maggiore esperienza e di avere i mezzi che avevano recuperato tra l'altro nei primi mesi della loro offensiva all'esercito etiope che possono girare su questo fronte. Sinceramente a questo punto direi che per il presidente Abiali le cose si mettano non male, malissimo. ... ... ... In questo ha ragione. I tigrini vogliono riprendere il potere dell'Etiopia perché lo avevano in precedenza e sono stati estromessi quindi vogliono recuperare il controllo di tutto il paese non solo del tigre ma di tutta l'Etiopia a ripristinare quindi una sorta di impero della loro etnia su quella sulle altre. ... ... Se in questo si trovano alleati ad esempio con le forze dell'Ola una parte quindi degli Oromo possono anche riuscirci. se diventa una lotta di tutti contro tutti alla lunga ognuno di loro perderà. ... ... ... ... ... ... Sì, ma ragazzi, ma qui ci sono dei giovanissimi, ma veramente. Avete potuto vedere quindi come, osservando nei video i luoghi di queste battaglie, nella fattispecie avevamo le immagini di Desiè, se vediamo attraverso la mappa possiamo individuare le montagne che erano inquadrate nel video, possiamo capire meglio come le forze etiopi siano state costrette a muoversi proprio lungo la stessa asse che seguivano in discesa le truppe tigrine perché sui fianchi le catene montuose impediscono un aggiramento del fronte avanzato. E questo gioca tutto a favore delle forze tigrine. Non c'è possibilità per gli etiopi evidentemente di aggirare l'ostacolo. Ora questa strada strategica, vedete la A2, B21, B11, sono in mano di fatto alle truppe di Mechelle e stanno addirittura scendendo più a sud. Ho letto negli ultimi rapporti che le stesse forze dell'Ola si siano attestate intorno a Chémissé, qui, per la sua liberazione. Quindi avrebbero preparato una testa di ponte avanzata che le truppe tigrine potrebbero raggiungere domani o dopodomani. A questo punto la distanza da Addis Abeba inizia ad accorciarsi e di molto perché inizia a divenire intorno ai 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 chilometri, 160 chilometri da Chémissé. Il che è una distanza piuttosto limitata, tenendo presente che sono già penetrate all'interno del territorio etiope, a Chémissé siamo a 160-170 chilometri a sud del confine meridionale del Tigré. Ripeto, la situazione è veramente grigia per Addis Abeba. Ad Addis Abeba sono segnalati in queste ore rastrellamenti di massa dei cittadini di etnia tigrina presenti in Addis Abeba, arresti e deportazioni di questi cittadini di cui poi non si sa più nulla. Voci di corridoio, ma sapete bene che in questi periodi sono da prendere con le molle, parlano già di voli prenotati da importanti esponenti del governo per scappare all'estero. Vista la poca distanza che ormai separa la capitale dalle avanguardie degli eserciti che avanzano, sia da nord che gli Oromo nei loro territori, e se quelle sono le forze che gli Amara stanno cercando di mettere a disposizione dell'esercito etiope, credo che ben poco vi sia per loro da opporre all'avanzata nemica. Resta da capire chi sta effettivamente sostenendo i tigrini, chi sono i loro sponsor. Io ho sempre sostenuto che dietro di questi potesse esserci l'Egitto per le note vicende legate alla grande diga del risorgimento etiope, che è un contestato progetto che gli Etiopi hanno messo in cantiere e realizzato in questi anni, e che limita di molto il flusso di acqua e quindi di limo eccetera verso sud, sia per il Sudan che per l'Egitto. Gli egiziani contestano duramente il mancato flusso di acqua. Loro volevano un riempimento in 15 anni, gli Etiopi lo vogliono completo in 5. Questo significa limitare di molto la portata di acqua a sud per diversi anni, con tutto ciò che questo comporta per l'agricoltura e le esigenze idriche di queste popolazioni. Vi ringrazio per l'attenzione. Prossimamente vi annuncio già che ci sarà un altro speciale dedicato invece alla guerra dello Yemen. Facciamo il punto domani perché ci saranno delle importanti novità. Buonasera a tutti. Iscrivetevi al canale. Ringrazio ancora di cuore tutte le persone che ci stanno sostenendo, sia con donazioni che con l'appoggio, anche morale. Alcuni di voi ci inviano ritagli di articoli, notizie interessanti che trovano, ci fanno segnalazioni. Tutto questo è molto importante per migliorare la qualità dell'informazione e anche per me che cerco di arrabbattarmi per meglio che posso, grazie al vostro aiuto, e di strecarmi nel groviglio delle informazioni, delle finte e delle disinformazioni, anzi per meglio dire, che ci sono in giro. Ancora grazie a tutti davvero e buonanotte.